si stanno preparando questioni di qualche istante poi vedremo le puledre di due tre anni ecco che in campo entra la giuria sei giudici internazionali sei allevatori di fama mondiale valuteranno la finale del campionato europeo sono i giudici che hanno che si sono alternati durante le categorie di qualificazione nella valutazione dei cavalli accedono alle finali solo i primi classificati di categoria ci danno l'ok dalla commissione disciplinare manca un giudice ci sono i giudici ci sono i giudici all clear Alla prossima. Alla prossima. Come on, ladies and gentlemen, don't be afraid to support your favourite horse. Alla prossima. 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 Alla homo. Alla MONTILCOME. Alla prossima. Alla. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Allaprusima. Alla prossima. Alla highlighting. Alla tagline. Alla truly. AllIa. Allalight. experience they will come through and you 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti.